Parigi, 14 ottobre 1875. Caro Teo, eccoti di nuovo qualche riga per allegrare me stesso, oltre che te. Ti ho consigliato di distruggere i tuoi libri e te lo consiglio ancora. Vedrai, ti darà riposo. Tuttavia, bada non diventare di mente ristretta fino a temere di leggere libri ben scritti. Al contrario, la buona lettura è un conforto nella vita. Cerca la luce e la libertà e non meditare troppo sui mali della vita. Come vorrei averti qui per poterti mostrare il Louvre e il Luxembourg, ma penso che anche tu finirai per essere trasferito a Parigi. Una volta papà mi scrisse, non dimenticare la storia di Icaro che volle volare fino al sole e dopo essere arrivato a una certa altezza perse le ali e precipitò in mare. Anche tu sentirai spesso che noi due non siamo ancora quello che speriamo di diventare un giorno, che siamo ancora molto al di sotto di papà e di altri, che manchiamo di stabilità, semplicità e sincerità. Non si può diventare semplici e veri in un solo giorno. Perseveriamo dunque soprattutto abbiamo pazienza. Quelli che credono non si affrettano. Non credo che ci sia alcun male nel dedicare al corpo una certa cura affinché sia relativamente forte. Vada a nutrirti bene e quando hai molta fame soddisfala. Ti assicuro che anch'io faccio spesso così e l'ho sempre fatto in passato. Nutriti specialmente di pane, figliolo. Il pane è il bastone della vita, dicono gli inglesi. Sebbene amino molto anche la carne e in generale ne consumino eccessivamente. Scrivimi presto, raccontami anche della tua vita di ogni giorno. Fatti coraggio e salutami chiunque chieda di me. Entro un mese o due spero che ci potremo vedere. Una forte stretta di mano, tuo affezionato fratello Vincent.